Una giornata importante per l'ITI Lucarelli, ovvero la consegna delle borse di studio. Carlo Mazzone, il nostro docente, risultato tra i finalisti al Nobel dei docenti. Una grande soddisfazione per me in prima persona, come dirigente scolastico, ma per l'istituto intero, perché il professore Mazzone è un docente che si è distinto immediatamente nel nostro istituto, più che per le sue competenze, per il piacere e per la passione che lui ha nell'insegnamento e per lo spirito di squadra che ha saputo creare intorno a sé, intorno ai colleghi e con gli alunni stessi. Passeggiare per il nostro istituto, nei nostri corridoi, è un piacere quando, ad esempio, ci si incontra con ragazzi che alla spicciolata e velocemente camminano. Se gli chiedete dove state andando, andiamo a cercare il professore Mazzone, perché sanno che con lui c'è sempre qualcosa da imparare, ma non solo di informatica. Tant'è vero che il premio, la borsa di studio, è per gli studenti meritevoli, ma non solo meritevoli nel senso di eccellenti nelle materie di studio, ma anche meritevoli in quelli che sono i comportamenti dei nostri giovani e soprattutto in quello che è la solidarietà, la sostenibilità dei ragazzi più fragili e più bisognosi. Sono veramente contento di questo evento, è un momento, credo, ispirazionale e innanzitutto devo ringraziare i ragazzi. Io sono, diciamo, semplicemente un rappresentante della docenza e più che altro della cultura e quindi veramente un momento molto importante per far capire che il nostro futuro sta nella fratellanza e nella cultura condivisa.